Alle 21.46 di nuovo in diretta da studio per la puntata numero 900 di Medicina Facile. Un traguardo importante, devo dire, che ci riempie di orgoglio e che è stato reso possibile grazie a voi telespettatori che per tanti anni, sono ben 19, non ci avete mai fatto mancare affetto e interesse. È un traguardo che ci riempie d'orgoglio a tutti noi che lavoriamo dietro a questa trasmissione, i colleghi, i tecnici, i registi, perché arrivare a fare, realizzare 900 puntate di Medicina Facile con varie modalità, vari format in 19 anni è sicuramente qualcosa di importante e di ambizioso. Il grazie va a voi telespettatori. Io sono orgoglioso di tutto questo, sono doppiamente orgoglioso, ancora più orgoglioso, perché festeggio la trasmissione numero 900 della mia carriera di informatore medico-scientifico, di divulgatore medico-scientifico, con il prossimo rettore dell'Università, Gabriele D'Annunzio di Chieti-Pescara. Buonasera e bentornato nei nostri studi al professor Liborio Stuppia. Buonasera, professore. Parlo pochissimo della sua carica, direttore, perché con lei abbiamo scelto di parlare di medicina di precisione, però non posso non farle qualche domanda. Intanto, ufficialmente ancora direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università, Gabriele D'Annunzio di Chieti-Pescara, diagnosi Covid, perché c'è stato un periodo che vi hanno massacrato di lavoro. Adesso si è un po' fermato, diciamo. Molto, molto fermato, molto. Rettore, come si dice? Rettore in pectore, rettore eletto. Rettore eletto. Prenderà servizio? Il 6 giugno. 6 giugno. Una vita per l'Adannunzio, lo posso dire con tutto il rispetto per la sua famiglia, ma una vita per l'Adannunzio da quanto tempo è dentro all'Università? Dal 1979, primo anno di medicina, quindi ho fatto tutti gli studi all'Adannunzio, la specializzazione, poi ricercatore, professore associato, professore ordinario, preside, direttore di dipartimento, presidente della scuola. Le mancava solo la carica? Sì, esattamente. Questa è la carica più importante che le fa sicuramente onore. È anche una bella carica di responsabilità adesso. Assolutamente. I primi obiettivi? Ma l'Università, non solo l'Adannunzio, tutta l'Università italiana esce dal Covid, che è stata una situazione di sospensione di quelle che sono le attività fisiologiche dell'Università, cioè avere a che fare con i ragazzi. Noi ereditiamo una generazione che è stata due anni a casa, a fare DAD, e chiunque sia passato già normalmente dal liceo all'Università sa che il passaggio dalla sicurezza, dalla protezione che ti dà il liceo andare in classe tutti i giorni con i propri compagni si perde nel passaggio all'Università in cui c'è una sorta di agorafobia. Figuriamoci una generazione che è passato due anni nella propria stanza davanti a un computer, quindi noi dovremmo avere molta attenzione verso questi ragazzi. La seconda grande problematica è la crisi economica, che ci spingerà ad aumentare moltissimo l'attività di reperimento di risorse attraverso la progettualità, attraverso l'interazione col territorio. Quindi sono sfide importanti. Altri obiettivi importanti credo la formazione, la formazione degli studenti, l'alta formazione anche per l'apertura a contesti internazionali. Con la ricerca come siamo messi alla D'Annunzio, professore? La D'Annunzio ha storicamente un'ottima tradizione della ricerca. Il salto di qualità che dobbiamo fare è passare dalla qualità della ricerca individuale alla ricerca interdisciplinare, perché adesso i grossi finanziamenti e le grosse pubblicazioni non si fanno su una tematica specifica, ma su tematiche che vedono insieme docenti di discipline anche completamente diverse, quale può essere medicina, sociologia, economia, psicologia, su tematiche molto molto trasversali. Quella è l'altra grande sfida. Quindi la multidisciplinarità anche in questo campo mi sembra di capire. Complimenti sinceri, bocca al lupo per il lavoro che l'aspetta da lettore. Con lei abbiamo una volta tanto scelto di non parlare più di Covid, abbiamo parlato di tamponi per tante puntate, questa sera parliamo di medicina di precisione. Che cosa si intende, professore, per medicina di precisione? È una definizione che si usa da qualche anno e che indica, secondo me, in modo meno chiaro della definizione precedente, che era medicina personalizzata, che era più chiaro secondo me. Però vabbè, poi l'hanno chiamata di precisione, c'è un motivo, poi dirò quale. Il fatto che si sta passando sempre di più da una medicina generalista in cui di fronte a dieci persone con la stessa malattia io faccio lo stesso approccio terapeutico e vedo se quello stesso farmaco funziona e su quelli in cui non funziona cambio farmaco, a passare a un altro approccio che è quello di dire ognuno di noi è una persona geneticamente unica, individuale, e quindi le caratteristiche di risposta a una terapia di una persona saranno diverse. Quindi se io faccio dei test prima, posso trattare quella persona col suo farmaco. Questo non è valido solo per il trattamento, è valido anche per altre cose, per esempio anche per l'alimentazione. Ognuno di noi metabolizza in maniera diversa il cibo e quindi probabilmente anche le diete, ma parlo, attenzione, delle diete importanti, quindi non delle diete seguite da professionisti. Pescate su internet, insomma. Sì, no, non tutte queste bizzarrie, ma vuol dire una dieta importante su pazienti che per motivi di salute devono perdere peso, andrà costruita sul profilo genetico dell'individuo perché sappiamo quali alimenti lo fanno ingrassare più di altri. Adesso torno sulla medicina di precisione, medicina personalizzata, come magari preferisce che la chiamiamo, anche perché vorrei capire da quanto tempo se ne parla. Però le volevo chiedere questo. Il fatto che si lavora ad persona, sulla persona, di fatto potrebbe mandare in naftalina i PDTA, i percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, che bene o male sono anche dei documenti che seguono iter ben precisi e anche uguali per tanti pazienti. Sta in realtà succedendo che i PTDA vengono integrati con percorsi di medicina di precisione. Faccio un esempio. Il PTDA, a cui noi abbiamo collaborato molto, regionale, fatto molto bene sul tumore mammario, ha un capitolo a parte su come vanno seguiti i pazienti in cui il tumore deriva da una mutazione genetica e la popolazione ancora sana in cui c'è una mutazione genetica. Su questo abbiamo fatto proprio questa mattina una riunione in regione. Cosa vuol dire? Questo è uno degli esempi migliori. Noi tutti facciamo o dovremmo fare gli screening per il cancro. I due più grossi screening, Mammella e Colon, oltre a quello che è chiaramente della cervice uterina, Mammella e Colon si basano sull'idea che intorno ai 50 anni viene chiamata tutta la popolazione a sottoporsi dell'analisi. Ebbene ci sono delle persone invece che per motivi genetici purtroppo svilupperanno il cancro prima dei 50 anni. Quindi è tardi fargli lo screening. Queste persone vanno identificate e devono seguire un percorso di prevenzione particolarizzato. Quindi nella regione Abruzzo il PTDA prevede quello che è lo screening della popolazione generale e poi l'approccio personalizzato a quelli che hanno uno specifico genotipo che è un genotipo di rischio per la malattia oncologica. Quindi bisogna anche abbassare la soglia d'età per l'allora degli screening. Medicina personalizzata, medicina di prestigione, da quanto tempo se ne parla? Più o meno che storia abbiamo alle spalle di questa medicina del futuro? Allora, ideologicamente, concettualmente, ma direi quasi filosoficamente, se ne parla intorno al 1870, quando c'erano delle citazioni bellissime, per esempio di un autore, Osler, il quale diceva così come nessun individuo ha la stessa faccia, allo stesso modo nessun individuo risponde allo stesso modo alle terapie che noi facciamo quando ha una malattia. E la stessa malattia non è uguale negli individui. Noi l'abbiamo visto col Covid. Persone infette, alcune totalmente asintomatiche, altre che andavano intubate, altre che morivano. Allora, noi abbiamo un assetto genetico che modula la risposta all'ambiente che ci circonda e quindi cambia, primo, il rischio individuale delle patologie, secondo, la nostra capacità di rispondere alla terapia e terzo, c'è poi, ne parleremo dopo, questa idea che sia addirittura possibile trasmettere questo rischio alle generazioni e che sarebbe responsabile dell'aumento di alcune patologie tra cui quella che avete trattato precedentemente, cioè l'autismo. L'autismo e il disturbo di sviluppo. Lei è un genetista, ma è tutto o quasi scritto nei nostri geni? Cioè nel senso che lei, interpretando i miei geni, riesce anche a tracciarmi il profilo futuro di quello che mi succederà da un punto di vista salutistico? No, tutto no. Ci sono però delle informazioni importanti. Allora diciamo che quando noi siamo il genotipo noi possiamo trovare una serie di varianti che possono fare, primo, possono direttamente dare una patologia. Allora io ho quella che noi chiamiamo la mutazione, in quel caso quella persona è affetta da quella patologia a causa soltanto della mutazione. Non sono, mentre un'altra si pensava che queste erano solo le malattie rare congenite, in realtà ci sono delle malattie anche a esordio tardivo che sono date da questa situazione. Per esempio il rene policistico dell'adulto è dato da una mutazione. È una malattia che viene nell'adulto, non nel bambino, ma verrà inevitabilmente a chi ha la mutazione. Ma il campo più grande è quello per cui invece la genetica non è necessaria e sufficiente, ma cambia il rischio di una persona e insieme ai fattori ambientali determina la malattia. Su questo c'è un esempio bellissimo che faccio a lezione che è molto chiaro. Noi cosa diciamo quando cerchiamo di educare grossolanamente la popolazione? Lo stile di vita e a tutti diamo un'indicazione di stile di vita. Benissimo, l'aneddoto è questo. C'era un personaggio che si chiamava Jim Fix, che ha il nome che sembra un cocktail, ma è Jim Fix, che è stato, non so chi lo sanno, l'inventore del jogging come disciplina. Non è che ha inventato il fatto di correre, ha inventato proprio la serialità del jogging, correre ogni giorno. Bene, lui faceva una vita assolutamente sana, non fumava, correva tutti i giorni, aveva un rapporto peso-altezza perfetto, muore a 52 anni di infarto mentre fa jogging. Uno dice, allora non serve a niente, ma attenzione, il padre era morto di infarto a 43 anni. Allora, questa storia è importante perché ci dice, abbiamo delle persone e delle famiglie geneticamente più a rischio di altri. Se noi facciamo un corretto stile di vita, riusciamo in qualche modo a limitare un po' questo rischio, ma non possiamo neanche dire che lo stile di vita corretto ci previene da tutto. Purtroppo dobbiamo dire che alcune persone hanno un rischio così elevato che lo stile di vita non basta. Intanto facciamo lo stile di vita corretto, poi vediamo. Quello comunque. Quello comunque. Senta, come si effettua la profilazione genomica a caccia di indizi, di mutazioni che potrebbero far sospettare una malattia? Si possono effettuare o si devono effettuare quei test genetici a cui lei faceva riferimento? Sì, si possono effettuare e noi ormai li effettuiamo quasi tutti. Ce ne sono ovviamente di due tipi. Uno è quello in cui ho un paziente con una malattia e cerco una possibile causa genetica della malattia. Il secondo è quello in cui ho un paziente in cui voglio valutare il rischio di una malattia, quindi un paziente sano. In questo caso in genere io ho una familiarità, quindi ho per esempio la sorella di una signora che ha avuto un tumore alla mammella in età giovanile o una famiglia, questo è un campo su cui lavoriamo molto, in cui ci sono molti casi di morte improvvisa. La morte improvvisa è un problema che è diverso dall'infarto, più delle volte sono patologie da aritmia, ed è una malattia genetica. Quindi quando abbiamo delle famiglie in cui ci sono più casi di morte improvvisa, bisogna fare un test genetico e lei potrebbe dire ma una volta che io ho trovato la persona con la mutazione, cosa gli dico? Morirà improvvisamente? No, non avrebbe senso. Si impianta un defibrillatore, quindi facciamo prevenzione e noi abbiamo avuto una volta, alcuni anni fa, un episodio di un paziente che è salvo grazie al test genetico, perché quando è andato a impiantare il defibrillatore perché aveva una mutazione, ha avuto un arresto cardiaco in cardiologia e per fortuna era lì e quindi lo hanno rianimato immediatamente. Quindi andiamo tutti a fare un test genetico. Come si fa un test genetico? È invasivo? No, allora adesso non è neanche più un prelievo di sangue, è un prelievo di saliva. Torniamo ai tamponi, però stavolta non è nasofaringio, è nella bocca. Gira, torniamo sempre. Sì, purtroppo la mia vita è... In realtà è proprio banalissimo, lo facciamo anche i bambini neonati, un tamponcino tipo un cotton fioc in bocca. Uno dice lo possono fare tutti? No, per un semplice motivo. I test sono comunque molto costosi. Allora possono farli solo, possono farlo soltanto le persone che hanno effettivamente una motivazione per fare il test. Quindi familiarità per certe malattie o una malattia già in atto. Ma siccome i test di queste analisi stanno scendendo sempre di più, si arriverà probabilmente al momento in cui noi alla nascita faremo il profilo genetico di tutti i neonati direttamente. Quello però creerà tutta una serie di problematiche. E cioè torneremo a quello che lei diceva. Possiamo leggere il destino? Bisognerà stare attenti a spiegare che in quel bambino io non leggo cosa gli succederà per certo, ma quali sono le patologie per cui ha più rischio. Ma questo vuol dire che lo aiuterò a far prevenzione di più verso le malattie cardiovascolari piuttosto che verso il cancro nel corso della sua vita. Ma non è che quello è una spada di Damocle per cui sicuramente... Quindi là c'è un problema di comunicazione importante che dovremo imparare a tenere in maniera corretta. Il margine di certezza della lettura di questi test genetici potrebbero dare anche tanti falsi positivi, tanti falsi negativi, oppure l'attendibilità è buona? Allora, da un punto di vista tecnico, le strumentazioni che abbiamo adesso hanno un livello di precisione altissimo. Dal punto di vista dell'interpretazione del risultato, quando io trovo una variante, esistono delle banche dati che ci dicono quella variante che cosa fa nell'organismo. e con molta affidabilità ci permettono di dire che cosa succede. Quindi diciamo che ormai sul risultato del test siamo abbastanza sicuri. Con i test si potrebbero prevenire, professore, tantissime malattie croniche non trasmissibili, tipo il diabete, tipo i tumori? Assolutamente sì. E lì il discorso poi si sdoppia, perché c'è... Ognuno di noi nasce con un rischio che non si è scelto, congenito, igienica ereditato dai genitori. Ma poi, ed è scoperto più recente, il nostro stile di vita, che cosa fa? Può modificare il nostro assetto genetico, non nel senso che cambia i nostri geni, ma nel senso che cambia il funzionamento di questi geni. E allora che cosa succede? Succede che scopriamo che le persone che nascono con un certo rischio, adesso capiamo quel rischio da cosa dipende in relazione all'ambiente. E faccio un esempio che spiegherà tutto. Noi abbiamo un gene, un gene veramente maledetto, si chiama FTO. Cosa fa questo gene? È un gene che fa ingrassare. Che ce ne facciamo? Ce ne facciamo perché il problema dell'umanità è sempre stato sopravvivere alle carestie. Che cosa fa questo gene? Quando c'è poco da mangiare, questo gene fa accumulare risorse, perché durante le carestie accumulare risorse teneva in vita. Adesso che cosa succede? Che chi è portatore di una certa variante di quel gene, se si mette a dieta, quel gene vede la dieta come una carestia. Per cui che cosa fa? Che invece di emagrire, gli fa accumulare risorse. Accumulare risorse vuol dire aumentare la glicemia, aumentare i lipidi, aumentare la pressione, quindi praticamente succede l'opposto di quello che uno vorrebbe. Sembra che ci sia poco da fidarsi di questo gene. No, però ha fatto sopravvivere l'umanità. Adesso è veramente un gene di troppo. Torniamo agli stili di vita. Tra i dettami, i cannoni che dovremmo rispettare, c'è l'alimentazione. Oggi obesità e sovrappeso nei bambini sono un'emergenza mondiale, con tutte le conseguenze che poi si manifesteranno nel corso della loro vita. Come si può intervenire a questo? Allora, il dato sui bambini è drammatico. Noi abbiamo al mondo 35 milioni di bambini sotto i 5 anni che sono obesi. Che è una cosa pazzesca. Una volta l'obesità, sotto i 5 anni, c'erano i rari casi di obesità patologica per dismetabolismi. Allora, che succede? La prima cosa da chiedersi è è colpa di quello che mangiano questi bambini? Ma guardate che è difficile anche in 5 anni, anche andando tutti i giorni al McDonald's, riuscire a diventare obesi. Non mi faccia nomi commerciali. Chiedo scusa. Non lo faccio più. La verità è che probabilmente questi bambini hanno ereditato qualche cosa dai genitori perché il cambio di qualità di alimentazione non è di questa generazione qua, è delle generazioni precedenti, cioè il passaggio dall'alimentazione corretta all'industria alimentare, il passaggio dalla dieta mediterranea al junk food sono avvenuti nelle generazioni prima. Il junk food è il cibo spazzatura, no? Quello che non si può fare lì. Quello che non si dovrebbe mangiare. È il cibo spazzatura. Allora che succede? Che la generazione precedente ha cambiato la sua alimentazione e questa alimentazione cambiando ha cambiato l'attività dei geni. Questi geni con attività cambiata vengono trasmessi alla prole e rendono questa prole immediatamente suscettibile a obesità, diabete e ipertensione. Quindi noi abbiamo bambini obesi, bambini diabetici e addirittura ragazzini che incominciano ad essere ipertesi, molto prima di quanto una volta noi vedessimo l'ipertensione. È per sé. Tra poco va alla Giglione in redazione per sapere se sono arrivate delle domande per lei. Mi ha già risposto a questa che le stavo per fare, che lo stile di vita non è l'unico responsabile di queste cose che ci potrebbero succedere nel corso della nostra vita, però entrano in gioco sicuramente fattori come quelli genetici. Abbiamo dei capitoli che io ho provato a studiare, ma non è che ci ho capito granché. Nutrigenetica, nutrigenomica ed epigenetica. Allora, siamo nello studio di medicina facile, quindi le chiedo uno sforzo di semplicità e di facilità anche per i nostri tre spettatori. Che insegnamento possiamo trarre da queste nuove scienze e discipline che tra l'altro stanno prendendo piede tantissimo, professore? Allora, la nutrigenetica sono facili da spiegare. La nutrigenetica ci spiega che il nostro assetto genetico cambia la nostra capacità di metabolizzare il cibo. Allora, una cosa che sappiamo tutti, ci sono delle persone che mangiano più di altre e sono più magre di quelle che mangiano di meno. Ci sono persone che possono mangiare, non so, la pasta a pranzo e a cena e persone che se mangiano troppi carboidrati hanno il diabete. Allora, perché? Perché i nostri geni metabolizzano il cibo in maniera diversa. la nutrigenetica è la disciplina per cui che cosa è possibile fare? Fare un test genetico e dire quali sono le persone più a rischio di sviluppare problemi legati all'alimentazione. Un esempio che abbiamo fatto qua chiedi con la collega professoressa Vitacolonna, sulle donne gravide noi identifichiamo col test genetico quelle che hanno più rischio di essere obese in gravidanza e di avere il diabete gravidico. È vero. Ok? Quindi, là c'è un passaggio importante. Se io prendo tutte le donne e dico loro durante la gravidanza dovete stare attenti a quello che mangiate sto mandando il messaggio generalista cioè quello della vecchia medicina. Se io invece faccio il test e dico guarda tu in particolare devi stare attenta passo dalla medicina generalista a quella di precisione e quindi sto dicendo tutte devono stare attenti ma una in particolare ha un rischio maggiore. Quindi nutrigenetica vuol dire fare un test che ci dice quali sono le persone più a rischio di avere problemi legati all'alimentazione. La nutrigenomica invece è la disciplina che studia l'effetto del cibo sull'attività dei nostri geni. Allora c'è del cibo che ci fa bene fa bene ai nostri geni e guarda caso è il cibo che è legato ai due tipi di alimentazione associati alla maggiore aspettativa di vita cioè la dieta mediterranea e la dieta la cucina orientale. I due paesi con l'aspettativa di vita maggiore sono Italia e Giappone più Giappone e poi Italia perché fanno una dieta che non è junk food. Sono più fedeli diciamo i giapponesi rispetto agli italiani. Noi abbiamo tradito di più la nostra dieta. Abbiamo tradito di più. Allora questa disciplina ci dice che per esempio il tè verde e che per esempio la frutta la verdura fanno bene ai nostri geni e altre sostanze fanno male. l'epigenetica è in generale l'effetto dell'ambiente sui nostri geni e il fattore ambientale più importante nel modificare i nostri geni soprattutto collegandoli al problema dell'obesità è lo stress. Lo stress fa produrre cortisolo e il cortisolo viene visto dai nostri geni come un momento di problema. I nostri geni hanno imparato per migliaia di anni che il problema vuol dire carestia la persona stressata e ingrassa. La faccio riposare un attimo alla Gigliola per sapere se sono arrivate domande per il nostro ospite il professor Stupia. Gigliola. Sì Paolo Sofia ha 58 anni e scrive mia madre è morta a 54 anni per un tumore al seno mentre le sue tre sorelle sono sopravvissute. Il fratello è stato stroncato da una leucemia fulminante. Mio nonno paterno e un fratello di mio padre sono morti a 68 anni per cancro al polmone l'altro fratello ha 76 anni alcuni mesi fa è stato operato per un tumore alla prostata. Mi devo sottoporre a un test genetico e ci sono terapie o cure che possono aiutarmi? Professor è una domanda è un albero genealogico è un albero bellissimo perché mi permette di fare tutti gli esempi allora alcuni tumori non hanno una base ereditaria il tumore al polmone non ce l'ha e le leucemie non ce l'hanno le ereditarie nel senso di trasmissibile la mammella si la prostata ha anche quindi se ho capito che la signora ha avuto diversi collaterali con tumore la mammella se ho capito bene la mamma e tre zie giusto? Sì aspetta che non abbiamo l'audio la mamma e le tre zie tutte operate di tumore al seno e alla prostata il fratello del padre perfetto allora quindi andiamo nell'altro ramo allora lasciando stare l'altro ramo dal ramo materno se sono ancora viventi le zie che hanno avuto il tumore il test va fatto innanzitutto su una delle zie quindi su una persona che l'ha avuto se c'è una mutazione poi a cascata si fa sulla signora che è ancora non ha nulla se invece non ci fossero stati i casi viventi si poteva direttamente fare sulla signora ma con un'attendibilità minore quindi è il classico caso che noi seguiamo cioè in realtà questo è un caso in cui la legge prevede l'esecuzione del test come livello lea quindi se c'è una familiarità di questo tipo un paziente affetto ha il test gratuitamente e questa anche ad esempio io non lo sapevo questo fatto qui dei test gratuiti se ci sono questi episodi queste correlazioni di familiarità Gigliola sono Samuele ho 40 anni entrambi i miei genitori sono morti di cancro e ho deciso di sottopormi a un test genetico ho scoperto di essere portatore di una mutazione ereditaria del gene oncosoppressore breast cancer 1 mi hanno spiegato che significa che ho un alto rischio di ammalarmi di tumori al seno e che dovrei sottopormi alla mastectomia profilattica è proprio necessario lei cosa mi consiglia? allora è una paziente giusto di sesso femminile? è un no è un uomo è un quarantenne cambia molto allora sul seno lo posso tranquillizzare perché nei maschi il tumore al seno esiste ma il rischio è legato a biereccia 2 non biereccia 1 allora questo paziente è un caso importante perché i maschi hanno un rischio un po' aumentato di tumore ma per fortuna a differenza delle donne non devono fare niente di preventivo devono solo fare anticipatamente e con una cadenza più frequente le analisi che tutti noi dovremmo fare cioè la colonoscopia invece di farla a 50 anni la fa a 40 il dosaggio del PSA della prostata invece di aspettare anche l'Ai50 li fa prima perché i due veri tumori che nel maschio aumentano di rischio con mutazione di biereccia 1 sono questi sono il colon e la prostata un po' il pancreas però per il pancreas purtroppo non abbiamo dei test molto affidabili di prevenzione ma sono casi più rari mentre la mastectomia nel maschio con biereccia 1 non serve perché è biereccia 2 che aumenta il rischio in una donna sì in una donna dovrebbe fare la mastectomia e anche la asportazione dell'ovaio perché biereccia 1 aumenta il rischio anche di tumore dell'ovaio grazie professore torniamo alla nostra alimentazione geniale al rapporto importante che ci ha spiegato prima quindi è fondamentale ad esempio una corretta alimentazione in gravidanza quello studio che stavate a quale faceva riferimento prima che ha portato avanti anche con la dottoressa Esther Vita Colonna io ne parlai in una trasmissione diverso tempo fa quindi corretta alimentazione in gravidanza corretta alimentazione magari anche nei primi mesi nei primi anni del nascituro del bambino esiste un protocollo che si chiama la prevenzione dei mille giorni che è molto bello tra l'altro che ci dice che la salute di ogni individuo dipende in gran parte dai suoi primi mille giorni di vita però questi mille giorni sono la gravidanza e i primi due anni quindi non da quando nasce ma da quando è stato generato quelli sono i mille giorni quindi la gravidanza il primo e il secondo anno quindi questo cosa vuol dire che buona parte della nostra salute dipende anche da quale è stato lo stato di salute della madre durante la gravidanza quindi se la madre mangia troppo o troppo poco se la madre fuma se la madre beve alcolici se la madre è stressata che attenzione non è una scelta la mamma non si stressa apposta fuma apposta ma non si stressa apposta e lo stress chiaramente in aumento la madre stressata crea problemi alla salute nell'arco di vita ma la novità più importante è stata che adesso la prevenzione di mille giorni va anticipata a una fase che noi tutti sottovalutiamo e cioè la fase preconcezionale ossia la coppia quindi non solo la donna anche l'uomo dovrebbe stare attento allo stile di vita che fa nei mesi l'uomo e negli anni la donna precedenti alla fecondazione perché lo spermatozoo del maschio e l'ovocellula in particolare lo spermatozoo porta l'esperienza dello stile di vita che ha fatto quell'uomo negli ultimi mesi per cui è un tipo di prevenzione che è sempre stata ignorata ma adesso si incomincia a fare soprattutto negli Stati Uniti dove è più facile migliorare lo stile di vita perché già basta cambiare l'alimentazione e far rifare la dieta mediterranea che hanno un cambiamento notevole quindi soprattutto il maschio in fase riproduttiva dovrebbe cercare assolutamente di pertanto e per pochi mesi a stenersi dal fumo attento a quello che mangia e attenzione allo stress perché il maschio stressato ha difficoltà riproduttiva una volta che ha fecondato la moglie poi può riprendere i vestiti dopo la gravidanza la portante non mi sembra un grande consiglio torniamo ai nostri test genetici il consiglio è farli però diamo indicazioni precise chi li deve fare quando li deve fare e come vengono fatti come vengono fatti ce lo diceva anche prima sono abbastanza semplici perché sono dei test salivari chi si dovrebbe sottoporre a un test genetico e da che età professore allora prima categoria le persone che hanno una patologia che potrebbe avere una base genetica in quel caso il clinico che le segue lo specialista che può essere il neurologo il pediatra il gastroenterologo sospetta una patologia genetica con un nome e cognome e che cosa fa manda a quel punto il paziente dal genetista che fa questo periodo di saliva e fa l'analisi cercando la mutazione genetica che è stata sospettata dal clinico quindi questa è la prima categoria e questo si chiama test diagnostico quindi io ho un tipo di clinica e faccio un test la seconda categoria sono i test di screening che vengono fatti fondamentalmente in Italia alla nascita sono gli screening neonatali di cui tra l'altro l'Abruzzo è la regione europea che fa più screening neonatali che vogliono dire che io non aspetto nessun sintomo appena un bambino nasce gli faccio un test per una cinquantina di malattie io lo fermo a 42 44 no ne abbiamo fatte altre adesso proprio da meno di un anno mi devo aggiornare devo studiare quindi che cosa succede che in quel caso si interviene per diagnosticare una malattia prima che si vedono i sintomi e questa quindi è la seconda possibilità la terza è il test preventivo ossia quello in cui io su una persona sana faccio un test perché quella persona ha dei familiari che è l'esempio che abbiamo fatto prima del tumore affetti ho il sospetto che quella persona possa essere portatrice di una mutazione che farà avvenire anche a questa persona la malattia gli faccio il test prima che gli venga la malattia in modo da poterla prevenire prevenire come? nel caso del cancro lo dicevamo prima vuol dire fare o dei test più approfonditi quindi per cancro una mammella non aspettare i 50 per fare la mammografia ma farla prima fare risonanza magnetica e fare una serie di altre cose oppure c'è ed è stata citata addirittura la chirurgia profilattica cioè una donna può scegliere la mastectomia e l'oforectomia per prevenire è chiaro che sono scelte molto delicate che vanno fatte e poi cambia anche in base all'età della donna se la donna ha già avuto figli o non avuto figli però vedete ci sono tutta una serie di opzioni dulcis in fundo le persone che hanno una mutazione per fortuna che hanno il cancro da mutazione possono fare delle terapie e qui torniamo alla medicina personalizzata ci sono dei farmaci che curano solo i pazienti che hanno quella specifica mutazione quindi non è detto che poi se un paziente ha il cancro e ha quella mutazione sia necessariamente solo uno svantaggio perché possono avere delle terapie elettive quindi sembra di capire che sono intanto realmente predittivi questi terzi generici quanto è importante poi andare a ricostruire l'albero genealogico in caso soprattutto di familiarità dei soggetti e tornare indietro quante generazioni professore per quanto possibile per voi è sempre difficile ricostruire la storia di una famiglia e dei propri noi possiamo lavorare solo sui viventi però più che tornare indietro è importante stendersi e trovare in una famiglia tutti i portatori alcune nazioni hanno fatto una scelta estrema allora intanto quante sono queste persone che portano una mutazione la letteratura ci dice uno su 140 quindi non sono così rare il Canada a un certo punto ha deciso di fare così ha offerto a tutte le persone sopra i 18 anni di fare il test per Bierecione e Biereccia 2 cioè ha detto io faccio un mare di analisi sopra i 18 anni ha detto perché sopra i 18 anni perché il test non può essere imposto deve essere una scelta del paziente quindi si considera la maggiore età questo è anche in Italia così prima dei 18 anni non si può fare per quel tipo di tumore ma siccome purtroppo ci sono altri tumori che potrebbero insorgere prima dei 18 per esempio il tumore poliposico del colon in altri casi questa regola dei 18 non è vera ma in pratica il Canada ha detto io prendo tutta la popolazione e identifico una volta per tutte tutti i portatori lo faccio una volta loro l'hanno potuto fare perché una densità di popolazione in Italia sarebbe improponibile anche perché l'investimento di sanità pubblica sarebbe un po' costoso assolutamente sì in chiusura quali persone potrebbero trarre davvero beneficio dal proprio profilo genetico una volta che è accertato professor Stupier allora abbiamo fatto un esempio prima che secondo me è illuminante i familiari di persone con morte improvvisa là è un test salvavita nel senso che se io ho avuto ricordate tutti il caso quando morì il calciatore Morosini a Pescara Morosini aveva una malattia genetica in famiglia erano già morti il papà e una sorella di morte improvvisa in quel caso allora sono passati dieci anni non era così diffusa questa testistica ma fare il test voleva dire che lui si sarebbe potuto sapere che aveva la mutazione e quindi intervenire prima tant'è che nelle morti nello sport saranno probabilmente il primo campo su cui si interverrà diffusamente in questo modo 22 e 21 lo spazio volentieri una telefonata per lei pronto avete 8? Pronto? Sì buonasera da dove chiama? Da Pescara Prego Senda io volevo chiedere da Pescara Sì deve abbassare il volume del televisore signora e poi faccio la domanda per cortesia Sì Sì Faccio la domanda perché sono quasi in chiusura Allora io sono ho avuto la diagnosi di un linfoma di tipo B volevo sapere se era opportuno fare un test genetico Sì allora resti in linea professore Allora in molti tipi di tumore il test genetico si fa sul tumore cioè proprio sul pezzo di tumore perché questo ci dà informazioni sulla prognosi di quel tumore e sulla terapia ma si fa ormai su linfomi e tante altre malattie si fa di routine I test che ho detto io prima sono quelli in cui studiamo l'assetto genetico di tutto l'individuo prima che abbia il tumore per prevenirlo quindi in quel caso il paziente può stare tranquillo perché il suo linfoma è già stato sicuramente caratterizzato geneticamente perché ormai là si fa di routine ma è attività che compete all'anatomia patologica non alla genetica medica Quindi il consiglio è farlo o non farlo questo test? No lui come pazienza non si deve sottoporre perché il test viene fatto sul tumore quindi non è il paziente che deve fare lo spatolino viene fatto soltanto si chiama un test somatico si dice cioè solo sulle cellule tumorali non su tutto l'individuo quindi lui non deve fare niente perché sul suo tumore è già stato fatto questo test Grazie Capito la nostra amica di Pescara ancora in linea? Grazie mille Grazie Professore siamo in chiusura conoscere dal test genetico quello che ci potrebbe succedere come ci potrebbe aiutare da un punto di vista diagnostico cioè preventivo diagnostico e anche terapeutico cioè poi la chiave di lettura che dobbiamo dare alla medicina personalizzata o di precisione qual è cosa ci deve realmente a cosa ci deve realmente servire Faccio due esempi uno positivo e uno negativo uno positivo noi adesso abbiamo appena istituito un centro di genetica oftalmologica perché alcune forme di degenerazione retinica che portano a cescità hanno una base genetica quelle su base genetica si curano quindi insieme al collega Mastro Pasqua abbiamo messo questo centro i pazienti con degenerazione fanno il test quelli che hanno una mutazione interrompono la perdita di visione quindi quello è un esempio molto esempio negativo alcuni laboratori un po' privi di scrupoli fanno dei test su tutto e danno comunicazione per esempio tu hai un rischio aumentato di avere Alzheimer benissimo ma in quel caso io non ho prevenzione per cui sto solo dando una notizia che aumenta il livello d'ansia del paziente e non gli è di nessuna utilità questo tipo di test non va bene se devono fare solo quelli in cui io poi posso avere un intervento preventivo e affidarsi soprattutto a laboratori altamente specializzati mi sembra di dire e alla figura del genetista grazie grazie al professor di Borio Stupia direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'università Gabriele D'Annunzio di Chieti continuerà a lavorare anche da rettore quello che posso però c'è la mia equipe quindi sono tranquillissimo grazie bocca al lupo per il suo incarico da rettore e complimenti naturalmente per questa carica prestigiosa la prossima volta cambierò la grafica quando sarà ospite scriverò il rettore dell'università di Chieti grazie professore grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione in relazione come sempre la collega Edmondo ciao Gigliola ciao Paolo io ringrazio il regista Danilo Cinquino tutti coloro che ci seguono e auguro una buona Pasqua a tutti sì buona Pasqua anche a te Gigliola buona Pasqua a Danilo buona Pasqua anche ai nostri telespettatori perché giovedì prossimo 6 aprile giovedì santo non andremo in onda torneremo giovedì 13 aprile per parlare di plasma e derivati con la dottoressa Patrizia Accorsi specialista dell'ospedale di Pescara e poi parleremo di come si accede ad un pronto soccorso quali sono le modalità anche da un punto di vista comportamentale per non intasarli i pronto soccorsi proprio l'attività di un pronto soccorso ci dirà tutto il dottor Angelo Flavio Mucciconi neoresponsabile da poco tempo del pronto soccorso del San Salvatore dell'Aquila grazie per essere stati con noi anche stasera buona Pasqua a tutti ci vediamo giovedì 13 aprile arrivederci a tutti Grazie a tutti.